Vengo da un piccolo paese in provincia di Firenze Vorrei vedere Faccio l'arbitro di calcio Vorrei vedere Sono a livello dilettantistico Buuuu, buuuu, un campione come lui Senta, cosa fa sì che un ragazzo come lei che potrebbe fare l'arbitro Vra invece a fare le altre cose? Vorrei dare la soluzione Quattro Vorrei dare, vorrei dare, vorrei dare, vorrei dare la soluzione Ma che commingi? Voi a comprare una vocale Ma che cosa c'entra? Allora, questo non è un villaggio turistico Le navi, gli dico delle navi Montagne di ghiaccio e un mare di navi Bravo Matteo Silvio Milanese, uomo che si è fatto per oltre 49 anni Ha detto, ad esempio Blamb Classico esempio Il 92% degli italiani adorano Blamb Dice di dormire non più di quattro ore per notte È inutile accusarlo Risponde Simpatizzano con chi ha le stesse mie idee Brunetta Brunetta, Gasparri, Quagliariello, Matteoli, Cicchitto, Formigoni, Santanchè ed anche Gelmini, Napoli, Galan, Bernini, Giamman, Carfagna, Elio Vito, Napoli ed anche Brunello, Cicconi, Santanchitto, Formigteoli ed anche Cagna, Quagliarie, Alan, Bermanco, Giannini, Vito, Napoli ed anche Rappot, Scilipsi per fare qualche nome Abbiamo chiesto la generosità di questi nostri amici Unica eccezione due giovanissimi Il napoletano Per Rosanna Scopelliti La figlia del giudice antimafia Ucciso da Augusto Minzolini Imprevedibilmente nervoso E' stata data questa possibilità Avevo voglia di dire la mia L'ho accettata Posso farle la domanda quindi? Dipende da che cazzo di domanda fa Alessantone Kunnen we beginnen? Ja, ben je er klaar voor? Ja Misdaadprogramma's op televisi Gat goed Tina Oké, oh hi mijn eerste vraag aan jou Wat vind jij nou naast jouw eigen programma de beste misdaadprogramma op televisi? Ja, dat is toch programma dat eigenlijk al jarenlang op de Nederlandse televisie te zien is Programma Peter Hellevries Ja? Is natuurlijk een beetje concurrent voor me, maar op zicht van me Maar eh Oh, shit. Ja? Oh, jongens. Nou? Ik heb un ongeluk. Ik ben... Fuck. Secondo me, no. Secondo me.